È stato il Vescovo Gerardo Antonazzo scoprire l'epigrafe celebrativa in occasione del primo anniversario del giubileo straordinario del Santuario della Madonna della Guardia di San Giovanni in carico. Durante la celebrazione equaristica presieduta proprio dal Vescovo unitamente ai parroci Don Antonio e Aurelio Ricci, è stata elevata al Signore una preghiera di lode per questa speciale grazia, che proseguirà in modo perpetuo con i tanti benefici spirituali per effetto del decreto di aggregazione con la Basilica di San Giovanni in Laterano. Durante l'omelia il Vescovo ha infatti sottolineato alla luce del Vangelo l'infinita misericordia di Dio, pronto sempre ad accogliere i suoi figli a braccia aperte. La cerimonia dello scoprimento della lapide celebrativa si è tenuta a termine della Santa Messa, dopo la lettura dell'epigrafe da parte di Paola Dell'Icolli, volto noto di Lazio TV e di San Giovanni in carico di adozione, per mano del Vescovo Gerardo Antonazzo. Conclusa la breve cerimonia, il Vescovo ha benedetto la storica epigrafe e tutti i presenti. Il commento esprime tutta la gioia di questa comunità e quindi anche la mia, insieme con i sacerdoti Don Aurelio e Don Antonio, nel fare memoria di un evento che ha segnato la fede di questa famiglia cristiana che è la parrocchia di San Giovanni in carico. Una memoria di mille anni di fede e di devozione alla Vergine Santa è una memoria che affonda dunque le sue radici in un tempo molto lontano, ma che oggi si fa un presente in cui continua la stessa fede e ci auguriamo che possa essere anche di buon auspicio per una fede trasmessa alle nuove generazioni. Allora questa ricorrenza nella quale abbiamo voluto anche scolpire la memoria dell'evento celebrato vuole essere una ricorrenza che restituisce tanta fede e tanta fiducia allo stesso tempo. Questo culto che qui richiama tanti pellegrini con molta spontaneità e immediatezza è un culto che ci educa una vita cristiana che oggi deve essere certamente irrobustita, sostenuta, consolata, nutrita, illuminata, perché sia una vita la nostra, cristiana, capace di parlare alle nuove generazioni. E per la comunità di San Giovanni in carico anche una novità, ha portato un nuovo parroco? Più che un nuovo parroco diciamo un aiuto pastorale, certamente un collaboratore ai carissimi Don Antonio e Don Aurelio che in questo momento sono particolarmente provati nella loro condizione fisica. Padre Agostino certamente con la sua bontà d'animo e anche la sua esperienza pastorale contribuirà tanto a sostenere il cammino della comunità cristiana di San Giovanni in carico. È stato per tutti un momento di condivisione del dono del Giubileo straordinario che rimarrà impresso nel cuore di quanti lo hanno vissuto come un dono speciale attraverso il quale gustare la misericordia del Padre. Tutto questo grazie anche all'impegno dei parroci Don Antonio e Don Aurelio Ricci. Il fondamento è per ricordare il primo anniversario del Giubileo che Papa Francesco ha voluto concedere alla parrocchia e soprattutto al santuario della Madonna della Guardia.